Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi un video aggiornamento riguardo alla collezione Calciatori Panini 2017-2018 figurine. Abbiamo trovato diversi articoli, diverse foto, non sappiamo ancora di preciso la data ufficiale, però abbiamo diverse notizie e ci sembrava comunque doveroso fare un video. Allora, la prima importantissima notizia è che il sito di Calciatori Panini è stato aggiornato alla collezione 2017-2018 e come potete vedere Camenzuolo quindi arriverà presto. Come potete vedere i colori principali probabilmente saranno il giallo e il blu, ma in realtà è stato già svelato anche l'album perché se andate sul nostro profilo Instagram ufficiale Paranormal Comics potete vedere Antonio Allegra, il direttore della Panini con in mano il nuovo album Calciatori Panini 2017-2018. Questa come potete vedere è la grafica. A quanto vedo è lo stesso formato della scorsa edizione, quindi diciamo l'edizione degli album grande. Questa per noi è una pecca. Abbiamo qui le grandi raccolte per la gioventù in rosso. La scritta è blu e lo sfondo è giallo. C'è un pallone tenuto dalle mani con il giocatore principale di ogni squadra e lo scudetto dell'Italia, ovviamente la famosissima rovesciata. Questo è il nostro profilo, ovviamente se volete altre news le potete trovare qui. Questa è un'altra foto dell'album, come potete vedere è sempre la stessa. E l'ultima pagina da andare a osservare è sempre quella di Antonio Allegra, ovviamente ripeto il direttore della Panini che ha messo diverse foto. La prima è lui appunto con l'album Calciatori Panini, come potete vedere qui ci sono anche diverse vecchie collezioni. Qui vedo un box Adrenalin, FIFA 365, Russia 2017-2018. Ci sono diverse cose e poi ci sono altre due foto da osservare. La prima è questa, ovvero come sono fatti i box da 100 bustine. Sono fatti tutti in blu con dei bordi in rosso. Quindi i colori principali per questa collezione, il rosso, il blu e il giallo. L'ultima foto da osservare è stesso l'impacchettamento dei box all'interno delle scatole della Panini. Ragazzi queste erano comunque le news più importanti. È stato comunque un video breve però spero di avervi chiarito le idee. Antonio Allegra stesso ha dichiarato, anzi lo andiamo a cercare proprio sul nostro profilo di Instagram, ha dichiarato che la collezione dovrebbe uscire per poco prima di Natale. Ecco qua il profilo Antonio Allegra Official ed ecco qui la sua foto con l'album. Andiamo a vedere i commenti e ci dovrebbe essere un commento in cui appunto ci ha detto di quando... Ci ha detto la data di uscita, più o meno ce l'ha svelata. Se lo ritrovo ovviamente questo commento... Ok ragazzi abbiamo trovato la data che ci aveva svelato Antonio Allegra su Twitter. Entro Natale in tutte le edicole. Però comunque se non mi sbaglio da qualche parte avevo letto che qualche giorno prima di Natale dovrebbe trovarsi già nelle edicole. Quindi può essere anche un'ottima idea per il Natale. Infatti qui l'ho trovato e dovremmo essere fuori il fine settimana prima di Natale. Quindi ragazzi devo dire che manca davvero poco, una quindicina di giorni e potrete avere nelle vostre mani l'album e le bustine di Calciatori Panini 2017-2018 figurine. Ragazzi che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo in un prossimo video.